Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso della unità di crisi della regione Campania, sono risultate positive al Covid-19 su tutto il territorio regionale 2.046 persone. I tamponi effettuati sono stati 15.260 per un tasso del 13,4%. Invece per quanto concerne il triste compito dei decessi, sono 36 di cui 7 nelle ultime 48 ore e 29 in precedenza, ma registrati ieri, nella provincia di Salerno, da registrare oggi un lutto a battipaglia, annunciato sulla pagina social della sindaca Cecilia Francese, con i decessi totali che sono 22. Purtroppo quest'oggi c'è giunta notizia di un'altra persona deceduta, un nostro concittadino, non è più tra noi. Ci stringiamo al dolore dei familiari ed esprimiamo loro le nostre più sentite condoglianze. Lutto anche a Scafate, una donna di Corbara è morta probabilmente in ambulanza in attesa del ricovero al Covid ospite a Scarlato e da Nocera Superiore. La comunità piange il maresciallo della polizia locale Alberto Carlucci. Il triste annuncio arriva dal sindaco Giovanni Maria Cofano con un post su Facebook. Piange anche Salerno per la perdita di uno storico commerciante morto nella giornata di ieri. Sono stati registrati 495 positivi nel Salernitano, di cui 45 a Scafati, 38 ad Angri, 36 a Pagani, 23 a Sant'Egidio del Monte Albino, 19 a Sarno e a Salerno. A Battipaglia si evince che sono 219 persone attualmente positive al Covid e 214 di essi in isolamento domiciliare, 5 ricoverate, con più 6 nuovi casi rispetto a ieri. Ad Eboli, invece, come si evidenzia sulla pagina social dell'ente comune di Eboli, sono in isolamento domiciliare 134 positivi, con 17 nuovi casi e 17 guariti.